Si è svolta la sedicesima edizione di Pangea, l'operazione internazionale finalizzata al contrasto e alla commercializzazione online di medicinali illegali o falsificati. L'operazione, coordinata a livello mondiale da Interpol, ha visto la partecipazione di 89 paesi. Lo sforzo congiunto di autorità doganali, regolatorie e forze di polizia ha portato a livello mondiale al sequestro di oltre 7 milioni USD di farmaci e dispositivi medici sequestrati, alla chiusura di oltre 1300 siti internet illegali e dall'arresto di un considerevole numero di soggetti coinvolti nel traffico di medicinali potenzialmente dannosi per la salute. Le attività di controllo in Italia sono state effettuate presso i maggiori hub aeroportuali dei Corriere Espresso e delle Poste, in ragione dell'elevato numero di spedizioni di cui questi sono destinatari. Presso questi hub sono state condotte verifiche congiunte da parte di team misti composti dal personale di ADM, militari dei nuclei dei Carabinieri del NAS ed uffici USMAF, coadiuvati dall'ufficio Investigazioni della Direzione Antifrode e dal nucleo Carabinieri AIFA con il supporto dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie all'intensificazione dei controlli tra le spedizioni dirette in Italia, sono state individuate e sequestrate nel corso della Week of Action quasi 47.000 unità di farmaci legali e falsificati per un valore stimato di oltre 170.000 euro.